scusate per la pubblicità di cripto però il meme era un video comunque si ragazzi siamo veramente su r slash memesita io non capisco perché sono qua non è per poter dire che stormy è uno dei peggiori youtuber di sempre ma semplicemente perché io ho rivisto le discord meme reaction di poldo quest'anno e ho visto che molti meme brutti brutti ma proprio brutti brutti erano su erano basati su r slash memesita iniziamo se mi annoio passiamo ad altro scienza al polo nord ci sono solo ci sono sei mesi di luce musulmani al polo nord grande dispiace il signor giudice ma il signor fosse davvero colpevole non giurerebbe su sua madre ragazzi prima di me non le ho capiti i matori quando il medico gli dia un nastro umore what italia 30 avanti cristo 2022 grazie per insultare la nazione dove vivi calabria si impara ah questo l'ho visto è bellissimo cazzarola giocatori roblox dove aver realizzato che 100.000 robux si hanno acquistato con non possono essere utilizzati come moneta di scambio che è un po' per comprarsi dei nuovi genitori it's getting sus lately nessuno io che mostro reddit ai miei amici di tiktok a dei calabresi eh si degli amici calabresi comunque basta non dovete insultare la calabria altrimenti io vivo in calabria sono forzato a viverci ah questo l'ho già visto è bellissimo mamma tesoro scendo io ho orfano da tre anni when I meet you who are you ma che cà come user di r slash di nature se si aspettano che reagisci quando ti quando ti rispondono your mom non capisco nemmeno questo Mario e sonico di monaco nel 72 no Mario e sonico ai giochi olimpici di monaco nel 72 sonico ha deciso di ma che cà i cantatori di serpenti inizia a suonare i capelli di medusa ah ok ho capito che perché i capelli di medusa questo è un questo in realtà è basato comunque avete visto che ho pubblicato un trollgy tutorial su lo shitposting di tiktok sono pronto per poter mandare quel meme a Bertra e Poldo nelle loro prossime meme reaction e vorrei fare anche uno su r slash memesita forse ve lo beccate la prossima settimana perché già devo anche prepararmi il signoresse contro manue per sabato a bocca mio padre è un figo mia madre è una figa ok io riso io riso a a real slim shady in sottofondo velocizzata tuttututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut usate fritto misto o che ne so la sigla della pimpa eh vero copriattato io compro 6 mele, 4 banane 2 cocomeri, 3 arance, 5 kiwi e 8 mandarini il signor Mario Rossi ha il problema di matematica are you challenging me? posso capirlo però allo stesso tempo ho capito e capirò quando oh no, non capisco quando una persona che ti indica una scorciatoia dice di chiamarsi il mio disegno il mio disegno dopo che lo sfumo io alle medie quando il prof di religione mi metteva 9.99, non so nemmeno più cosa sia reale devi prendere sempre in realtà religione è solamente un'ora di cazzeggio perché non c'è un effettivo voto dipendente di Elisabetta franchi che rimane no no mi dissocio rimines no io quando mia madre mi scrida io nella mia mente vero vero what video originale in descrizione cosa sta a me voglio sapere il video no anzi lo io non voglio interrompere il video per cosa allora ditemi cos'è sto video dimmi come si chiama Simone Cristicchi ti regalerò una cosa videoclip ah ok però poteva essere usato meglio e Natale tutto tace Natale tutto tace se c'è un terrone sulle brace non è di Pari né di Palermo porco Dio è di Salerno quel terrone sono io scusate maestra chi è che ha messo su reddit la pidella che caga e l'ha fatto inventare un meme tu no ragazzi sti meme che ha inventato il vide è Cristo e dove nasce il vide è il ma veramente incredibile ho commesso un omicidio no no io amico fammi vedere qualcosa di impossibile ma vero io ma veramente no DJ ci ha ci ha appena ricrollato cioè ragazzi immaginatevi essere ricrollato in televisione sarebbe bellissimo ah un giorno adesso ditemi adesso orrei hackerare tutto per essere sai perché no no niente razzismo viva boh no io direi di di passare a minion ok stiamo pronti per la corsa di minion rush allora useremo l'arbitro visto che è quello che è più che più che quello che è giusto usare durante cose come questo vedo infatti lui ha ben 10 10 secondi di aspirabanane ok riempiamoci questa bellissima barrozza così per ottenere l'aspirabanane ma vabbò ragazzi il mio è abbastanza basato perché comunque parla con social media in realtà io lo anche uso con social media quindi quindi vabbò ah c'è anche ok dai 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 no you no you no you no you no you no you no u no you perché io sto dicendo queste cose no you vabbò è un pochino come il meme you are pointless tipo avete presente che sta diventando abbastanza popolare sto meme che va di un di un triangolo che dice ad un cerco you are pointless eh perché il cerchio non non è usato né in geometria cioè non è usato molto in geometria yes le scrivo questo salta il minion e yes abbiamo già completato la la missione grazie per la pubblicità ve la beccate comunque perché fottetevi bastardi scusate ragazzi però se usate sit tiktok non vi non vi dico scusa grazie per la pubblicità e andiamocene via perché io non ho voglia di tagliare le le pubblicità vabbò ragazzi ieri dovevo comunque ragazzi ieri dovevo fare god simulator il problema è che alla fine il mio tablet veramente ragazzi era proprio in condizioni ormai fottiti non poteva non poteva riuscire a registrare god simulator che visto che ho già dovuto riscaricare lo roblox e o altre app vabbò ma comunque ragazzi veramente era semi sofferto stava soffrendo il mio tablet quando l'ho fatto quasi per un pelo ok dai prendi sto raddoppia banana che ci basta prendi ste bananas rotate banana rotato vabbò banana ehi e dili tutti vai che stava percorrendo tutti sti metri chilometrici si è un po' rallentato il minion yes missione completata grazie per l'obiettivo giornaliero sei pronti per un'altra pubblicità no non c'è pubblicità ok percorri 120 metri con lo scudio minion come come c'è solo come posso devo usare il bambino ma se c'ho il corridore scusa scusa il corridore è la stessa cosa e il problema è che per sia era mmsita che mi vuole che mi fotte che ragazzi entrambi la va vabbò ragazzi io non vorrei comunque chiudere dai giochiamo in armeria ok dobbiamo raccogliere 120 banane con l'aspira banane quando tutta la speranza era perduta alla fine è arrivata all'armeria che ci ha che ci ha aiutato a a sconfiggere questo blocco di gioco credo che il timing fosse non dei migliori vabbò un bel po' di cazzatine cazzatolle cazzatine 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 il fatto che comunque non posso prendere tutti tutti i personaggi che potevo cioè c'erano due personaggi e tutti entrambi i personaggi erano non li avevo scloppati boom shakalaka boom boom shakalaka boom shakalaka boom boom you've got the dumping boom shakalaka mamma mia per qualcosa tu mi fai ridere che di mignone no dei puffi cacchierolla volevo ottenere quell'aspira banane ok dai ci riproviamo ragazzi dai ricominciamo grazie per idol manier tycoon per aver sponsorizzato questo video e non non si carica solo per chiudere il video ok vabbò saltiamo ciao per la pubblicità you've got me dumping right boom shakalaka boom vabbò ragazzi sto video è stato è stato un po' di rmm messita ragazzi completiamo sta missione e vediamo il più popolarico perché dai il titolo reagiamo a rmm messita e dopo completiamo la missione dopo avercene visto pochi però perché dai il tempo passa dai vi spacco la fascia a tutti quanti i bastardi no però ho tenuto a pochi panna yes 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 prendile prendile tutte prendile tutte ma prendile tutte bastardi dai me le dovevi prendere tutte yes prendile tutte prendile tutte le prendi tutte c'è anche il minion che viene ucciso aspira le tutte dai che ce la facciamo dai ci arriviamo ci arriviamo ci arriviamo vai che ci arriviamo cacchio di nove ne posso prendere nove di banane però comunque se non ricevo le carte abbastanza per per coso la stella marina chiudiamo ovviamente vabbò ormai avere la stella marina è un po' un obiettivo per 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 me stavo quasi per morire tra l'altro vabbò io so io so quello che io sto facendo vabbò ora tra l'altro anche perché mo è che mo c'è una zona dove di banane se ne aspirano un bel po' vai vai yes prendile tutte però non sono ancora abbastanza stavo quasi per morire sicuramente stavo quasi per morire cioè ragazzi stefano non può essere distrutto da niente cioè io mi chiedo qual è il record mondiale chi di quanto tempo è stato a giocare sto gioco e a correre cioè sicuramente non aveva tempo libero adesso lo chiedo chi è nel suo record chiedimi quanto quanto tempo qual è quello che ha più tempo mi son salvato ok ragazzi sembra che ogni volta che io sto per morire invece mi salvo ragazzi non l'avevo rotto zoom yes la facciamo vai vai che ce la facciamo io ti gero yes e andiamo un atto che c'è la pubblicità pubblicità questo sembra un po' lotta illegale a Bolzano con le pubblicità dove ragazzi è veramente incredibile quel lotto illegale a Bolzano con le pubblicità è veramente qualcosa di intrattenente andate per loro a recuperare lo potete trovare cercando semplicemente lotto illegale a Bolzano sarà tipo uno dei primissimi video che vi appariranno quando cercate il termine di ricerca più bello di Google ok cacchio solo tre oh boh io direi di fare la cosa di però si possono comunque ottenere ah posso anche ottenere ah in realtà si può anche ottenere il bebè ok ragazzi siete pronti perché adesso dobbiamo ancora fare allora facciamo i più votati di questa dell'ultima settimana ok allora l'impero romano nel 263 avanti Cristo che cercava il Molise per conquistarlo oh no 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 this game is forse io mi ricordo no non è il gioco che penso avevo visto uno standing gear eserci standing gear I realize bellissimo Putin che va a ritirare i soldati dopo che il papa ha digiunato per poter per protestare contro la guerra eh sì average senatore al tg1 contro i videogiochi fan average senatore cazzarolle è veramente apprezzato ragazzi il senatore armstrong è veramente un personaggio bellissimo dei videogiochi nanomachines son cazzarolle c'ha 130 commenti sto sto meme ragazzi non sto scherzando c'ha 130 commenti eh standing basta niente boys che andiamo in tribunale dopo aver portato al convegno vegano due secchi no cringe sei nato del tropico del cancro il tuo segno è giocatore del cancro il mec dice che adesso hai il set completo io il mega no concorrenti dei quattro bellissimo carcerati quando in prigione c'è un uomo è arrivato trof non hai superato le io um possible un possible ma sono visto quando i ristoranti vorrei volevo ridere quando tua mamma ti chiama dicendo che è pronto ed è davvero pronto what is this cristiani nel crocetto che avevano sterminato un po' no mi dissocio jarvis prendi il primo meme cringe che trovi e mettici i breaking bad sempre bello fare cringe r slash meme sita memes but i replaced tm fan with random italian characters volevo farlo con i meme sull'anime uscirà un giorno 69 euro aspettate 29 euro aspettate playstation plus ora l'ho già visto mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio non fate scherzi sulle torri io un appassionato di armament vabbò potere potere parati l'ho già visto ok after all this years matteo è andato in francia nico è andato in francia giacomo va in marocco i have final i have temo sono tutti sono tutti usciti tre slash due anni fa l'ho già visto ok originale hollywood netflix non capisco se è napoli la notte di capodanno è i bocchi tu metti like io metto up but we are not the same cos'è sto qua è gioio no 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 vabbò senti di r slash emoji carabinieri quando vedono delle persone con delle espressioni facciali ma sembra un sacco un fans explaining meme non so se voi sapete cosa siano vero sono vabbò ma comunque cos'è r slash emoji carabinieri ok anche a meno che va ah ma sono tipo quello per un sabren un sabren giornalisti italiani dopo che putin ha detto che arresterà tutti quelli che fanno notizie false ok i receive allora trade offer i receive 5.000 5.000 euro you receive un telefono esattamente uguale a quello precedente ma senza caricabatterie iphone la cosa sopra il prossimo anno magari tolgono anche il telefono per un inquinare grazie vabbò shrek the rock la fusione la ultimate fusion quando posti un meme alle 8 di mattina ok affogare overdose di h2 bull di film americano perché picchiato il secchio a boh ragazzi ecco perché poldo odia così tanto r slash memesita io butto una e con questo meme io direi di chiudere basta insultare i calabresi e ci vediamo domani i calabresi i calabresi